Grazie a tutti. Sindaco di Spigno Saturnia, ci vediamo questa sera per parlare un po' di quello che è stato il passato, sia recente che quello che poi è stato la tua amministrazione. Prima di tutto buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa e soprattutto grazie a Telegolfo per l'opportunità che mi date questa sera di confrontarmi anche con i miei cittadini spignesi che sicuramente ci staranno seguendo in molti. Io non ti devo negare che ti stavo per chiamare come sindaco di Spigno, ospite da noi all'intervista, quindi purtroppo non ti ho potuto avere come sindaco, però con te vorrò tracciare anche un bilancio di quella che è stata la tua amministrazione. Sono incidenti di percorso purtroppo che nella vita amministrativa bisogna mettere in preventivo, certo è meglio che alcune cose come quella che è successa a Spigno la settimana scorsa non accadano per l'interesse della comunità, però ci rialziamo e guardiamo al futuro. Ricordiamo che la nostra trasmissione è in diretta sia in tv che sui social, quindi chi vuole anche inviare domande in diretta al nostro Salvatore Vento potrà farlo attraverso le nostre pagine social e Emanuela girerà le domande proprio a Salvatore Vento. Prima di tutto vorrei aggiornare con te quello che è lo stato dei fatti perché 25 giugno si dimettono dei consiglieri comunali, si dimette il vice sindaco, si è parlato tantissimo, è stata anche delle dimissioni molto social, quello del comune di Spigno è stato un evento social perché tra sindaco e opposizione si è parlato molto sui social. Lo stato dei fatti a oggi, ragionandoci a freddo perché il tempo ne è passato, l'acqua ne è passata sotto i ponti, l'idea di Salvatore Vento. Che qualcosa bollisse in pentola, come si dice normalmente, era già trapelato nelle settimane che hanno preceduto il 25 giugno. Non ci aspettavamo noi e il resto della maggioranza una dimissione in massa da parte dei consiglieri di minoranza più l'ex vice sindaco Rodolfo Somma. Pensavamo che si arrivasse in consiglio comunale con una mozione di sfiducia e eravamo pronti ad aprire un dialogo e un dibattito all'interno della sede di confronto del consiglio comunale. Questo non è avvenuto, i consiglieri hanno optato per una prassi legittima sicuramente ma alquanto anomala perché di fatto tronca il confronto e non permette soprattutto ai cittadini di partecipare all'assise cittadina e quindi di venire ad ascoltare le motivazioni di una parte e dall'altra e soprattutto non si lascia al paese le chiacchiere ma si lasciano atti amministrativi che rimangono poi nel tempo dove ognuno espone la propria convinzione o la propria situazione. Hai parlato di dimissioni dei consiglieri. In un comune come Spigno-Saturnia oggi esistono 10 consiglieri comunali che sono divisi praticamente 7 di maggioranza e 3 di opposizione almeno al momento dell'istituzione del consiglio perché poi si sa il panorama politico è molto mutevole ultimamente. Sono pochi per un comune anche piccolo come Spigno perché Spigno circa 3.000 abitanti ma 10 consiglieri non rendono facilmente instabile la vita politica di un comune? Beh io a volte faccio una battuta che ci sono associazioni sul territorio che hanno consigli direttivi che sono numericamente più grandi del consiglio comunale. Noi con la precedente legge avevamo 12 consiglieri, i rapporti di forza erano 8 per la maggioranza e 4 per la minoranza più chiaramente il sindaco. Sono stati ridotti di due unità. Chiaramente quando un'amministrazione non ha dinamiche di rottura al proprio interno il numero 7 a 3 ti lascia abbastanza tranquillo. Quando invece come è successo a noi dal 2015 in poi alcune dinamiche e situazioni hanno portato man mano a una riduzione del numero dei consiglieri di maggioranza ci si è ritrovati con una maggioranza composta da 6 consiglieri e una minoranza da 5 e quindi abbiamo vissuto in bilico per diversi anni fino a quello che è successo lunedì 25. Il comune di Spigno era prossimo all'ultimo anno di amministrazione. L'ultimo anno, come spesso si vuole, è l'anno in cui si realizzano i sogni perché anche lo stesso sindaco Stefanelli che è stato nostro ospite precedentemente i primi tre anni sono quelli che utilizzi per lavorare, per recuperare il quarto comincia a fare progetti, il quinto è quello che poi ti porta a concretizzare i sogni del programma. Rimane un po' di rammarico per non aver concretizzato quest'ultimo anno e cosa c'era in progetto? Cioè è l'unico rammarico, non per quello che è successo, non perché è caduto Salvatore Vento c'è il rammarico perché non abbiamo potuto dare o meglio restituire al Paese quello che ci eravamo prefissati. Noi siamo stati un'amministrazione che ha ereditato una serie di difficoltà. Queste difficoltà sono state amplificate da un'indagine della Corte dei Conti iniziata nel 2016 che ha contestato tutta una serie di bilanci comunali progressi. Quindi abbiamo lavorato per ristrutturare la situazione contabile senza per questo venire meno all'impegno con i cittadini in modo particolare sui servizi a domanda senza chiedere nulla in più rispetto a quello che era la nostra intenzione. Finalmente quest'anno, già un po' lo scorso anno con un primo risultato utile di amministrazione di 56.000 euro che ci ha permesso di fare una serie di piccoli investimenti sul territorio e quest'anno in modo particolare noi avevamo in programma di approvare in queste settimane tant'è vero che già era partita la proposta di variazione al bilancio verso il Revisore dei Conti per il suo parere che deve esprimere obbligatoriamente dove c'erano la realizzazione di alcune opere importanti per il Comune di Spirino. Parliamo proprio di questo. Per qualcuno questo è stato il pomo della discordia, questa delibera di giunta. Cosa c'era in questa delibera di giunta e che cosa si stava programmando? Allora nella delibera di giunta c'erano, in modo particolare si ricevevano e si scrivevano in bilancio alcuni finanziamenti della Regione Lazio. Il rifacimento delle penseline Cotral grazie a un accordo che noi abbiamo fatto con il Cotral tra i 100 comuni del Lazio che hanno ricevuto questo finanziamento c'erano i 70.000 euro per la gestione dei terreni confiscati alla Camorra in collaborazione con l'Istituto Agrario di Itri, c'erano i lavori di ristrutturazione della palestra comunale che è utilizzata dalle scuole dell'Istituto Comprensivo Pinturno Spigno, c'erano la realizzazione del primo lotto del cimitero comunale con fondi comunali, c'era il completamento di un'area giochi su Aspigno Superiore e c'erano altre voci quali in modo particolare sulle politiche sociali per quanto riguarda la terza età o la disabilità e in più c'erano l'iscrizione a bilancio dei 200.000 euro destinati al plesso della scuola elementare di Spigno Saturnia e altre richieste di finanziamento come la realizzazione della rete fognaria per il campo di calcio a 5 di Spigno Superiore. Mi pare pure l'isola ecologica se non sbaglio. C'erano 100.000 euro visto che abbiamo vinto il bando non per la realizzazione dell'isola ecologica ma per la realizzazione della compostiera di comunità che chiaramente prevedeva comunque la realizzazione di un'isola ecologica intorno a questa compostiera di comunità. Io prendo l'assista al volo, il comune di Spigno già da 6 anni svolge la raccolta differenziata, i risultati di questa raccolta e poi quello che è stato il vostro cambio, il cambio di marcia dell'amministrazione Vento. Allora il porta a porta a Spigno su tutto il territorio è stato introdotto dal mio precedessore da Franco Simeone. Ha avuto negli anni momenti di alti e bassi ma la percentuale di differenziata si è sempre attestata tra il 57 e il 64% in questi anni. Abbiamo chiuso il 2017 proprio con un 68% circa che è stato il miglior anno dall'inizio. Questo per merito soprattutto dei cittadini che sono entrati in perfetta sintonia con quello che è il meccanismo della raccolta differenziata. Con la maggioranza abbiamo fatto un ragionamento tra di noi, bisogna fare una scelta che è quella di arrivare a delle cifre importanti e soprattutto quella di restituire ai cittadini un riscontro economico su questa raccolta differenziata. Per questo abbiamo pensato e abbiamo introdotto a marzo di quest'anno la tariffa puntuale, quindi il calcolo della Tari non veniva più fatto secondo i criteri della parte fissa calcolata sui metri quadri dell'immobile e la parte variabile calcolata sul nucleo familiare ma fermo restante i metri quadri dell'immobile la parte variabile viene calcolata sulla produzione effettiva del rifiuto indifferenziato. Perché negli anni analizzando il trend della raccolta abbiamo notato che la percentuale di prodotto indifferenziato, prodotto pro capito a spigno era il triplo rispetto alla media nazionale, circa 120 kg a persona contro i 40 circa a livello nazionale. Quindi bisognava intervenire su quella voce che poi viene completamente tutta buttata in discarica a termovalorizzazione, quindi anche con un danno ambientale e abbiamo per questo elaborato un sistema che in altre parti d'Italia è abbastanza vecchiotto, ha più di qualche decennio, che è quello del sacchetto prepagato. Quindi noi diamo un tot 26 per esattezza sacchi da 40 litri a ogni famiglia che lo esporrà e lo espone solo esclusivamente quando il sacco è pieno. In questo modo noi facciamo un calcolo il più reale possibile per quanto riguarda la produzione. C'era all'inizio anche da parte dei cittadini una leggerissima preoccupazione e scetticismo, in realtà introducendo alcune accortezze che erano errori non per carenza della cittadinanza ma proprio per un'informazione veicolata errata e mi riferisco in modo particolare allo smaltimento di tutte quelle che sono le stoviglie di plastica per esempio, che in molti gettavano nell'indifferenziato quando in realtà è plastica. Quindi praticamente il riscontro che abbiamo avuto già subito all'impatto è stato che effettivamente questa busta da 40 litri di indifferenziato veniva esposta con cadenza di 2-3 settimane. Tanto è vero che l'ultimo dato che ho avuto la possibilità di leggere era la percentuale di maggio che si è chiusa con l'85% di indifferenziato. Gli avrei pagato tantissimo se i pannolini andavano nell'indifferenziato. I pannolini proprio per questo vanno con una raccolta apposta che non viene calcolata in bolletta e con una raccolta che è fatta su due giorni, lunedì e il giovedì. Quindi c'era anche un sistema un po' più virtuoso per agevolare... Questo diciamo che è l'inizio poi per arrivare al peso vero e proprio un giorno con i nuovi sistemi tecnologici che attualmente erano economicamente svantaggiosi per un territorio come Spigno. Un territorio come Spigno, 3.000 persone, le peculiarità per gestire, per essere il sindaco? Perché in un'intervista si è parlato di Salvatore Vento come deus macchina del comune di Spigno. Un po' perché mancano i delegati, gli assessori sono in numero residuo, poco. I consiglieri sono anche di meno perché 10 persone è difficile, anzi 7 o 5 persone è difficile gestirle. Salvatore Vento come ha gestito il comune di Spigno? Allora, la prima riflessione da fare è che Salvatore Vento ha fatto il sindaco H24. Per fortuna o per sfortuna sua ha preso l'incarico come lavoro, come vero e proprio lavoro. Questo in un comune piccolo come Spigno, dove tra l'altro il contatto diretto con la cittadinanza ti porta ad essere impegnato anche 24 ore su 24, perché in 4 anni, che è anche la parte bella della vita amministrativa, essere coinvolto per le cose più diverse e strane che uno può immaginare, ti porta ad occuparti della griglia sotto casa che sulla strada principale non riesce a smaltire bene le acque meteorologiche, ha problemi di natura contabile oppure più complessi che sono simili al comune di Roma e al comune di Spigno. Quindi diciamo che ho cercato di fare il sindaco stando a contatto sempre con le persone, specialmente perché sin dall'inizio e con molta onestà intellettuale sapevamo che andavamo verso una situazione dell'ente abbastanza complessa, ma quella anche generale che non ci avrebbe permesso di realizzare chissà che opere oppure chissà che investimento da valorizzare così tanto il territorio. Quindi l'unica cosa, e l'abbiamo fatto con piacere tutti quanti, tutta la mia amministrazione, non solo io, è stata quella di avere il contatto costante e diretto con tutti i cittadini e con molta onestà dirgli quando una cosa era fattibile e quando non era fattibile e si è cercato di affrontare a 360 gradi tutti quanti i problemi che ci sono stati sottoposti in questi anni. Notavo che ci stanno arrivando un bel po' di messaggi da coloro che ci seguono da casa, quindi fra poco andremo all'angolo social per parlare. Tutti positivi per il momento, eh? Saranno tutti amici. Tutti amici. Vorrei tracciare con te quello che è stato il bilancio di cassa lasciato al commissario. Mi pare che in questi giorni ci doveva essere il passaggio. Lo abbiamo fatto oggi alle 16.30. Quindi attualissimo. Ho lasciato, abbiamo lasciato nella verifica straordinaria di cassa attualmente 376.000 euro. Nel luglio 2014 quando l'ho ereditata era di 266.000 euro. Quindi è un buon tesoretto. Negli anni abbiamo anche, diciamo, pagato qualche debituccio che c'era, senza fare polemiche su come sono stati creati, perché purtroppo la vita amministrativa a volte ti riserva, diciamo, delle difficoltà e vanno affrontate comunque con impegno e sempre con la massima serietà. Allora vorrei parlare con te di acqua, perché Spigno è il territorio che ospita la più grande sorgente del nostro sudopontino, Capolacqua. Come hai vissuto da sindaco i problemi dell'anno scorso della sorgente dell'acqua, che praticamente a un certo punto abbiamo visto quasi il fondo, che potevamo grattare il barile, e com'è lo stato di acqua latina? Perché a Formia si è fatta una campagna elettorale parlando spesso e volentieri dell'acqua e di acqua latina. Sindaco di Spigno, l'ex sindaco oggi di Spigno, cosa ne pensa? Allora diciamo che l'anno scorso il problema idrico l'ho vissuto con molta sofferenza perché era difficile dare risposte dirette a una parte della cittadinanza. Questa cosa che una parte della cittadinanza ha sofferto la carenza idrica e una parte no, per una fortuna, diciamo, strutturale dell'impiantistica di Capotacqua, ha rischiato di creare anche un conflitto, tra virgolette, interno. Siamo stati bravi noi, i cittadini, a non cadere nella provocazione o nel malcontento di qualcuno che lo alimentava. È chiaro che quando ti dicono c'è un problema alla sorgente e tu vai nella sorgente e vedi che effettivamente acqua non c'è, non hai gli strumenti per entrare dentro poi materialmente nella sorgente. Questo però mi ha portato a studiare un po' che cosa era Capotacqua e oltre a avere una cognizione di quella che è tutta l'impiantistica anche generale e forse anche dei problemi che non so se adesso sono stati presi in carico da parte d'Acqua Latina, quella che è la carenza strutturale della sorgente di Capotacqua, che è una sorgente particolare, che vive di grandi innalzamenti di acqua e di imminenti livelli bassi, la carenza è fondamentalmente dovuta al sistema di captazione. L'ho detto l'anno scorso, l'ho detto nelle riunioni del lato e nelle conferenze dei sindaci, la dispersione idrica è un elemento fondamentale chiaramente, non si può vivere con circa il 70% di dispersione nel territorio, perché non è tanto l'acqua che si disperde che poi vuoi non vuoi torna in natura, sono tutti costi legati anche solo al prelievo e alla sanificazione di quell'acqua che si portano via. L'investimento serio, oltre che al recupero delle perdite, va fatto sul metodo di captazione di capotacqua. Questa situazione mi ha portato a conoscere abbastanza bene la rete idrica di spegno, perché non si finisce mai di imparare, quindi uscirà sempre qualche altra cosa, e devo dire poi che negli ultimi sei mesi, comunque tramite il programma di recupero di dispersioni fisiche, abbiamo sostituito notevoli chilometri di condutture e oggi proprio parlando con il commissario che mi ha fatto tra le varie domande di passaggio la situazione legata ad Acqua Latina, io mi ho sollecitato di ricordare a lato 4 ad Acqua Latina che ad agosto 2017 presero un impegno con il sottoscritto, quindi verbalizzato e tutto, di fare degli interventi che sono al di fuori dell'RDF, ma che vanno a intervenire su alcune zone che già normalmente hanno carenza idrica, come via Rapella, via Casarino e via Fosse, chiedendogli, forse con la forza del prefetto, di portarli a compimenti al più presto possibile. Io ho parlato con un altro sindaco in settimana, l'ho incontrato a un pranzo, abbiamo chiacchierato, lui mi ha detto che la sua gestione delle riparazioni di Acqua Latina è quella di mandare un tecnico comunale ogni qualvolta Acqua Latina comunica un intervento sul posto, come è stato il tuo modus operandi? La maggior parte delle volte ci stavo io sulle perdite di Acqua Latina, questo anche perché, proprio per conoscere meglio la rete e per capire quali sono le problematiche, credo che però questa attività di controllo vada fatta nelle sedi istituzionali, perché a volte anche nelle riparazioni ci sono delle dinamiche particolari. Io ho un padre che fa elettricista, se viene chiamato per riparare una dispersione, se ne va e a volte capita che dopo due ore c'è un problema analogo e il cliente dice vabbè ma che hai fatto? E quindi a volte capita, specialmente quando una condotta è abbastanza vecchia, che ripari in un punto e due metri più sotto la pressione riporta. Infatti lui mi diceva, io non faccio mettere la gravatta, faccio cambiare il pezzo, la tratta di tubo come è possibile. L'abbiamo fatto anche noi ultimamente su Via Turrimai, abbiamo fatto tra l'altro anche un intervento innovativo, perché Acqualatina con la ditta che chiaramente ha individuato non ha scavato ma attraverso un sistema innovativo ha perforato sotto il terreno quindi con un'opera di un'ingegneria unica ed è stata anche una bella esperienza vedere quel tipo di lavoro realizzato. Vabbè, quindi anche questa è una buona notizia. Vorrei andare nell'angolo social, adesso passiamo da Emanuela, però chiederei alla regia di richiamare un attimo i commenti che sono sulla diretta internet perché la nostra regia le ha lì. Adesso le metteremo. Abbiamo una chicca. Un secondo solo, volevo rispondere al nostro telespettatore perché io e Saluto abbiamo fatto la battuta degli amici. Non siamo amici, abbiamo cervello, a prescindere. Quando si vota, non si vota l'amico ma si vota con un'idea, con un credenziale e con un pensiero. Quindi la nostra battuta degli amici è stata giustamente per dire siamo tutti amici, sono solo gli amici. Non è vero, anzi a me piace vedere che c'è anche magari qualcuno che non ha votato per Salvatore Vento. Quindi mi fa piacere come cosa. Poi torneremo su quello che è la campagna elettorale ma adesso domande dal social. Beh, tantissimi saluti al sindaco. e abbiamo una chicca, dicevo, per quanto riguarda il vice sindaco Sparagna che ci dice che lei è a conoscenza del sistema acquedottistico a memoria. Daniele Sparagna è un amico. Tra l'altro, come dicevo prima, a telecamera è spento e lo ringrazio perché la fotografia che ho usato per comunicare alla cittadinanza di Spigno che non ero più sindaco, me l'ha scattata lui proprio perché c'è un rapporto di amicizia e anche di, diciamo, credo di stima reciproca. Quando lui ogni tanto mi solletica sul fatto che conosco la rete forse meglio di qualcun altro è perché effettivamente ho cercato di capire in modo fondamentale come erano le dinamiche sul mio territorio. anche perché avrei voluto, tra virgolette, valorizzare maggiormente proprio il sito di Capodacqua non solo dal punto di vista impiantistico ma anche proprio dal punto di vista culturale e anche storico perché l'anno scorso, proprio in uno dei sopralluoghi fatti con acqua latina perché volevo capire la situazione ho potuto ammirare i resti dell'acquedotto romano quindi parliamo di qualcosa di molto importante e lì era nata l'idea di cercare di realizzare presso la centrale di Capodacqua un centro didattico storico non abbiamo fatto in tempo vediamo il futuro che cosa dirà. Manuela, c'è Melania Piacentino che è molto prodica di domande. Certo, voleva sapere come mai insomma quali sono stati i problemi fondamentali che hanno portato a questa intenzione insomma a queste dimissioni? Beh, che ultimamente diciamo i rapporti erano un po' tesi era più che tesi erano distanti i rapporti era nell'aria le motivazioni credo che più che a me andrebbero chieste al vice sindaco perché io mi aspettavo e ritorno a quello che dicevo un po' all'inizio della trasmissione il confronto in consiglio comunale il confronto in consiglio comunale con Rodolfo Somma avrebbe aiutato sia lui che me e quindi tutta la maggioranza a uscire da questa situazione con l'obiettivo di aver dato comunque la possibilità ai cittadini di partecipare a quello che era un problema dell'amministrazione e a farsi una propria idea e a prendere anche una propria posizione il confronto è stato troncato non è stato voluto e si è lasciato andare tutto ai comunicati sulla stampa che chiaramente è un batti e ribatti e sarà ancora un batti e ribatti o ancora peggio alle chiacchiere di piazza ma come dico io spesso le chiacchiere di piazza poi se le porta al vento e non rimangono atti il confronto in consiglio comunale sarebbe venuto e avrebbe detto questo malessere così pesante che non ha permesso di concludere la consigliatura e sentirlo perché io a volte sento che ho letto un suo intervento in cui diceva non è mai stato convolto e contemporaneamente due righe dopo c'era scritto ho fatto tutto io c'è una contraddizione un attimo sull'operato io cito tre episodi del rapporto con Rodolfo Somma politico perché dal punto di vista umano è una persona stupenda e continuerà ad essere per me una persona stupenda dicembre 2014 già c'era qualche mal di pancia qualche situazione purtroppo dopo l'euforia della vittoria inizia a tastare i problemi e iniziano anche a crearsi delle situazioni io dieti all'allora consigliere perché non era ancora assessore le mie dimissioni in bianco senza data ci siamo visti in un bar di spigno sulla superstrada e gli dissi io voglio avere un rapporto franco perché riconosco il ruolo che tu hai avuto non solo elettorale anche se non mi piace ragionare in termini elettorali ma anche per la costruzione della lista e per l'attività che tu hai fatto in tutti gli anni per il paese e politica se ci sono problemi se ci sono situazioni che portano ad essere diciamo a creare divergenze queste sono le mie dimissioni io questa cosa qua avrei voluto dircela in consiglio comunale perché non credo che sia mai esistito un sindaco che dà le dimissioni in bianco senza data a un consigliere comunale un segno di rispetto politico e sulla persona oppure settembre 2017 il sindaco parte va a far visita alla comunità spignese dopo anni a Pittsburgh comunica alla prefettura che da quel momento il sindaco è Rodolfo Somma cioè se non è coinvolto nell'attività di tutto non avrei mai fatto una comunicazione del genere perché anche da Pittsburgh o da New York che riesco tra virgolette a cedere al protocollo dell'ente grazie ai sistemi informatici e a rispondere a gestire l'attività c'era una grande collaborazione evidentemente non ho saputo cogliere tutti questi mal di pancia specialmente gli ultimi e somma ha preso una decisione forte che è stata quella di troncare di fatto l'amministrazione e mandarla a casa con le dimissioni di massa senza il dibattito io non sono rammaricato perché l'amministrazione vento è andata a casa perché l'amministrazione vento ha la forza di ripresentarsi al giudizio dei cittadini saranno i cittadini a decidere se deve stare in minoranza oppure tornare alla guida del paese il mio rammarico è perché è mancato il momento di chiarezza della politica nei confronti dei cittadini io avrei fatto insieme ai altri consiglieri un bel consiglio comunale in piazza Dante che secondo me sarebbe stato tra i più partecipati della storia di spegno dove ognuno con equilibrio con consapevole di quello che diceva avrebbe affrontato le tematiche quando sento che l'amministrazione è cascata per una strada per una buca per un muro per una piazzetta ritengo che quelle sono chiacchiere da bar sono chiacchiere da bar che non fanno bene alla politica e allontanano ancora di più i cittadini da quello che è la politica siamo tornati sull'amministrazione allora io ho l'obbligo di farti un'altra domanda in un'altra intervista hai parlato di un governo di scopo perché anche se spigno è senza sindaco comunque si voterà a scalenza di mandato quindi al di là di quello che erano i fatti del 2014 c'era la possibilità nel caso di fare un governo cosiddetto di scopo dove si poteva coinvolgere parte dell'attuale di quella che era l'opposizione o magari coinvolgere con un programma ben definito quelli che erano i due consiglieri che erano usciti virtualmente dalla maggioranza quali sarebbero stati i punti che voleva nel caso proporre? quando il sentore che avevamo perso il sostegno del vice il timore c'era più di un sentore perché purtroppo il paese è piccolo la gente si conosce e mormora io sono venuto a conoscenza di una probabile emozione di sfiducia la mattina che stavo ero a Roma in regione all'assessorato all'ambiente ho fatto partire il tavolo tecnico per l'approvazione del piano di gestione forestale mi arrivano dei rumors dicendo guarda che mentre tu stai cercato di far partire uno strumento importantissimo di pianificazione ci sta qualcuno che ti sta lavorando alle spalle e il giorno dopo abbiamo fatto una riunione di maggioranza l'ultima alla quale è venuto anche l'assessore Rodolfo Somma però le voci che c'erano già dei rapporti con una parte della minoranza una serie di incontri erano già forti ed erano stati confermati perché sempre in un famoso bar di spigno prima di venire alla riunione di maggioranza l'assessore era stato con un esponente della minoranza adesso io posso anche credere al caso alla fatalità e tutto però in una situazione del genere con i risultati che ha portato non posso pensare che quel caffè era frutto del caso quando quindi la situazione era diciamo andava verso una diciamo una caduta dell'amministrazione c'è stato un contatto con il consigliere del Partito Democratico contatto che per dovere di cronaca noi abbiamo avuto anche diversi mesi fa dicendo molto francamente visto che la minoranza che prima aveva fatto un unico gruppo poi si era per motivi loro ridiviso quali erano le prospettive verso maggio-giugno 2019 in politica si fa e si era diciamo avviato un parlay nulla di che quando abbiamo capito che la situazione stava precipitando ho chiesto al Partito Democratico di 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 sostenere l'amministrazione di sostenere l'amministrazione era il venerdì prima della festa di San Giovanni che è stata la mia ultima festa con un con un impegno che fosse anche a tempo ed era legato a passiamo un'estate tranquilla perché se tutto va bene sarà tranquilla ma se ci devono essere problemi forse una guida che sta a contatto diretto con i cittadini potrebbe servire essere più utile facciamo partire l'anno scolastico come si deve portiamo a compimento quei due o tre progetti che sono di utilità pubblica e mi riferisco in modo particolare al cimitero comunale per una situazione di carenza di loculi e dopodiché possiamo tranquillamente sciogliere il consiglio comunale e andare verso la campagna elettorale se invece in questi mesi vediamo che ci può essere del feeling perché non continuare questa cosa io però l'avrei proposta a tutta la minoranza qualora si fosse venuto in consiglio comunale con la mozione di sfiducia io gli avrei chiesto nell'interesse della comunità di non di andare avanti Salvatore Vento come sindaco ma di portare avanti questi due o tre punti in modo condiviso e dopodiché si poteva tranquillamente sciogliere il consiglio comunale e ce lo chiedo in pubblica assise in modo tale che comunque è una decisione anche forte ma che va rispettata detto questo col senno di poi ti interrompo avresti atteso lo stesso la pubblica assise col senno di oggi no no l'avrei comunque attesa perché io ho provato diciamo ho cercato di aprire un dialogo col partito democratico anche per una certa diciamo affinità di vedute non tanto con il partito democratico ma con l'aria di centro-sinistra difficilmente avrei trovato in altra compagine diciamo un supporto mettendoci a tavolino e facendo una cosa del genere era tra virgolette la mia forse anche una provocazione in consiglio comunale però speravo che era una provocazione che portava dei frutti perché quando io lunedì mattina vengo diciamo dimesso dalla carica di sindaco nel leggere le motivazioni scarni che nell'interesse della collettività io non ci trovo nessun interesse nella collettività se non un accordo politico qua a maggio 2019 quello ci leggo perché c'è mancato il confronto il confronto serviva ai cittadini di Spigno-Saturnia che per la prima volta nella storia si sono ritrovati con un sindaco caduto caduto e con un commissario prefettizio che starà per 11 mesi nel comune non hanno nemmeno la percezione di quello che è il commissario prefettizio perché durante questi giorni mi telefonano per chiedermi quando è possibile incontrare il commissario parecchie persone non hanno idea di quello che è il commissario prefettizio fra poco torneremo nell'angolo social vedo che hai tanti commenti tante domande la videosorveglianza era un progetto che era a termine praticamente sei stato praticamente tu ad affiancare il commissario per chiudere questo progetto sì e oggi me ne ha reso non omaggio perché non è così ma mi ha detto che per fortuna il progetto è andato a buon fine c'è da fare ancora qualche piccola diciamo specifica di natura puramente tecnica ma con ogni probabilità nel giro dei prossimi mesi partirà l'installazione della videosorveglianza la mia amministrazione ha lavorato due anni per arrivare a questo risultato abbiamo provato con svariati bandi della regione Lazio non siamo mai andati diciamo a un punteggio valido l'ultimo quello di agosto 2017 invece ci ha portato a un punteggio anche elevato per la qualità del progetto e purtroppo tra virgolette come ho avuto poco modo di dire in una riunione sulla sicurezza pubblica fatta a campo di vivo dal comitato locale i bassi reati ci hanno penalizzato per fortuna dico io abbiamo colto subito questa opportunità lanciata dal Ministero degli Interni e abbiamo presentato un progetto che coprirà completamente tutta l'area di Spigno dando speriamo una percezione di maggiore sicurezza a tutti quanti i cittadini pochi cittadini ma è un territorio abbastanza ampio Spigno spesso e volentieri si parlava della differenza tra Spigno superiore e Spigno inferiore come l'ha percepita il sindaco Vento durante la sua amministrazione e come ha operato in base a ciò allora uno dei diciamo dei motivi della lista prima Spigno del 2014 era dare un maggiore senso di comunità al paese uno degli attestati di vicinanza più bello che mi hanno fatto nei giorni scorsi è che sai all'area giochi di Spigno Nuovo per la prima volta si vedevano abitanti di tutte le zone quello è il senso di comunità abbiamo cercato in questi quattro anni di essere vicino a tutte le zone credo anche che diciamo potevamo fare sicuramente di più a livello di investimenti ma non abbiamo lesinato di attenzione nessuna zona nessuna contrata nessun centro urbano partiva adesso il momento degli investimenti basta pensare da anni si parlava dell'attraversamento pedonale in località Campodivivo tre giorni prima che l'amministrazione cadesse erano iniziati i lavori dell'attraversamento pedonale di Campodivivo con sistema di sicurezza e quant'altro e l'idea era tramite altri fondi comunali anche quello di intervenire sempre per esempio a Campodivivo sulla strada principale che ha una curva un po' cieca un po' pericolosa in modo da renderla maggiormente sicura e con piccoli interventi che coinvolgessero un po' tutto il territorio perché per noi Spigno è sempre stata unica e una andiamo nei social e poi parliamo un po' del futuro Emanuela allora c'è Francesco Bisecco che scrive pare che le intenzioni della maggioranza fossero quelle di posticipare alcuni interventi a favore di altri è stato questo uno dei motivi che ha fatto cadere poi questa amministrazione? No, allora diciamo che conoscendo Francesco e credo che la domanda sia più che pertinente per la situazione che si è creata tra gli obiettivi in modo particolare del vice sindaco ma di tutta l'amministrazione condivisa c'era la realizzazione di un'area giochi su Aspigno Superiore perché era un'area l'unico centro urbano che non avesse uno straccio di giostrina quindi si condivideva questa scelta se non che da piano regolatore le aree che si dovevano individuare per la realizzazione di aree attrezzate non erano diciamo tra le migliori quindi c'è stato un iter molto lungo che il sottoscritto ha seguito andando insieme a un tecnico a Latina all'archivio di Stato per ricostruire le proprietà e quant'altro per arrivare dopo una prassi burocratica molto lunga ad approvare una variante al piano regolatore per la realizzazione dell'area giochi fatto questo era necessario adesso trovare le risorse economiche per fare l'area giochi in assenza anche di bandi regionali io a volte un dato che non si sottolinea mai abbastanza ma la mia amministrazione è entrata nel momento in cui l'amministrazione provinciale veniva depotenziata quindi in molte fondi di contributi che potevano essere viabilità o aree sono stati di fatto dismessi quindi c'è stata un'ulteriore difficoltà a reperire fondi fino a che nel 2017 a maggio quando approviamo il rendiconto c'è un buon risultato di amministrazione 56.000 euro noi ne prendiamo 20.000 li destiniamo alla prima fase di realizzazione dell'area giochi adesso tra la proposta di variazione che era all'ordine del giorno dell'aggiunta che non si era mai fatta c'erano ulteriore 20.000 euro per completare l'area giochi quindi l'area giochi non è stata diciamo sacrificata a nessun lavoro il completamento di piazza Santa Croce a Spignolecchio è stato individuato da tutta la maggioranza che ha deciso per accedere al finanziamento di contribuire per quota parte impegnando il bilancio comunale per tre anni 2016 17 e 18 il 2016 per il Comune di Spigno è stato l'anno orribile a livello economico perché abbiamo dovuto riconoscere molti debiti fuori bilancio ma di impegnare il bilancio con risorse proprie per accedere al finanziamento somme intorno ai 48 mila euro adesso potrei sbagliarmi ma le cifre erano più o meno quelle e nessun altro lavoro ha mai avuto la priorità su altri prima parlavo del cimitero comunale perché il cimitero comunale si è aspettato l'ultimo anno per partire perché è la prima volta che il cimitero comunale viene realizzato non accendendo un mutuo ma con i fondi comunali con i fondi comunali che abbiamo messo da parte e perché c'è stato un consigliere comunale Salvatore Cocomello che per 4 anni ha fatto un'opera di recupero sul pagamento delle lampade votive che ci ha permesso di far ricostruire il salvadanaio ristabilendo anche un principio di equità rispetto ai cittadini che la lampada votiva la pagavano quindi oggi eravamo nelle condizioni di prendere un vecchio impegno contabile che era vuoto e l'abbiamo rifinanziato del 2013 per circa 75 mila euro più 60 mila euro dati dalla vendita dei loculi dalle lampade votive e da altre opere in modo tale da appaltare il primo lotto quindi si è sempre lavorato diciamo per spalmare su tutto spigno e nessuna opera è stata sacrificata ad altre opere ancora i social più che una domanda è un'affermazione ci chiedono se ci sarà un confronto fra lei e io voglio il confronto con Rodolfo Somma ma non voglio un confronto di piazza perché il confronto di piazza mi sembra più una cosa un po' retropa io auspico che Telegolfo altri network la stampa ci chiami per un confronto noi diamo già la nostra disponibilità io ho la necessità di avere un confronto moderato aperto ecco come questa sera con i social con i social un confronto con Rodolfo Somma perché dobbiamo ristabilire un principio di trasparenza nei confronti della cittadinanza il chiacchiericcio è un male per tutti è un male per tutti allora noi diamo già la nostra disponibilità come redazione Telegolfo quindi se il dottor Somma è disponibile siamo qua l'invito è stato è stato inviato hai ancora qualcosa Emanuela? no allora parliamo di futuro prima di tutto oggi Salvatore Vento che progetto ha per per Spigno? allora Salvatore Vento lunedì 25 è cascato martedì 26 si è rialzato e mercoledì è iniziato a correre è iniziato a correre perché c'ha la forza di una squadra di Carim Ducciarone Salvatore Cogomello Salvatore Palazzo Vanni una forza di amici che mi stanno intorno e qui si sente l'amore che hai messo per governare e quindi noi abbiamo la necessità di rimettere questo lavoro alla volontà dei cittadini e lo dico in modo tranquillo senza fare accordi con nessuno senza invischiare la vecchia politica famiglie politiche nipoti figli e quant'altro di quello che l'errore lo abbiamo fatto una volta io facevo una riflessione con me stesso l'altra sera nel 2009 mi sono candidato a sindaco con una lista che si chiamava leale a Spigno lo spirito e il principio della lista che si chiamerà prima Spigno a maggio 2019 avrà la stessa forza e la stessa voglia di volontà di quell'esperienza fatta da ragazzi e ragazze che avevano e vedevano verso la politica solo una grande passione e a servizio dei cittadini solo questo quindi noi già abbiamo fortunatamente una base per proporci all'elettorato io faccio un appello a tutte le persone che si vogliono impegnare io non conto i voti la mia squadra non conta i voti a noi non ci interessano i voti ci interessano le idee e i progetti e i voti verranno dietro le idee e i progetti questo è l'unico vincolo che mettiamo cioè vogliamo persone che stanno a contatto con i cittadini dalla mattina alla sera e con molta onestà portano avanti il lavoro di amministratore ti sei definito un civico di sinistra mi piace come termine un civico di sinistra ma perché un civico perché oggi la sinistra non è più quel grande partitone o cosa? perché ho difficoltà a trovare un partito di sinistra o meglio ho difficoltà a trovare un partito di sinistra per come la intendo io che non può essere sicuramente la sinistra estrema che riciccia ogni tanto e non può essere il partito democratico la mia idea di sinistra è un'idea che è di società aperta mi piace chiamarla sinistra liberare a me ed è una sinistra di popolo è una sinistra che si mette al fianco del popolo leggevo un libro negli ultimi mesi sinistra e populismo il titolo più o meno l'incipit è quando la sinistra non riesce a capire più il popolo dice che è populismo è l'errore più grande che la sinistra ha fatto l'errore più grande che la sinistra ha fatto è che dare i suoi temi i propri temi di anni di lotte li ha regalati a chi oggi corre dietro alla pancia del popolo questo è l'errore più grande non c'è un partito oggi che mi può rappresentare e lo vivo anche con sofferenza questa situazione perché mi è sempre piaciuto stare all'interno di partiti e confrontarmi nel dibattito politico facevo una riflessione con vecchi amici io sono cresciuto nella sinistra giovanile che era l'organizzazione autonoma giovanile del partito dei DS quello che dicevo a queste persone che oggi hanno 40 anni come me 45 anni e che noi abbiamo fallito perché noi dovevamo portare avanti il progetto della sinistra giovanile a livello nazionale come partito autonomo il nostro fallimento è quello manca quel tipo di contenitore anche perché oggi la sinistra sta pagando forse la mancanza di quei giovani che hanno fatto quella cavetta probabilmente Renzi li ha rottamati tutti sta pagando la voglia dei giovani che passavano le nottate ad affiggere i manifesti e si divertivano nonostante rischiavi le botte da qualche parte avversa e nonostante ogni tanto qualche volante dei carabinieri ti correva dietro birra e colla paga quella passione quella voglia di mettersi in gioco ti sarebbe piaciuto da sindaco e adesso da candidato perché questa sera è come se avessi ufficializzato la tua candidatura alle prossime elezioni progettare una grande opera per Spigno io quando vedo quel palco fatto a Spigno vecchio lo vedo mi piace ma in alcuni casi lo piango perché è una bella opera ma secondo me in un posto dove non dovrebbe essere faccio una mia considerazione da esterno abbiamo cercato in questi anni di cogliere tutte le opportunità che ci sono state diciamo che si sono manifestate in un momento difficile perché chiaramente l'istituzione principale che doveva erogare contributi era la regione Lazio che non viveva dal punto di vista contabile un momento esaltante in più anche per la regione Lazio sono scattati i sistemi dei comuni l'armonizzazione contabile quindi prima di fare un bando prima di spendere soldi non solo devo dirti che ce li ho i soldi ma soprattutto devo dimostrare che oltre a quei soldi ho una cifra uguale perché se succede qualcosa devo essere coperto abbiamo cercato in tutti i modi di cogliere l'occasione abbiamo abbiamo aderito a un GAL per cercare di cogliere tutte le opportunità del PSR oggi 2018 il PSR nel Lazio stenta a partire pensavamo che il piano di assestamento forestale potesse portare quello sviluppo economico e turistico oggi luglio 2018 da due anni consegnato il piano il piano non decolla io ho lasciato la riunione in regione dicendo questo piano sarà approvato il giorno in cui va a scadenza nel 2021 molto probabilmente abbiamo cercato di intercettare i finanziamenti il rammarico è non aver realizzato una grande area verde all'interno di Spigno dove passare le giornate tutti quanti insieme con giochi e quant'altro e un piccolo pallino che era la pista ciclabile nonostante abbiamo presentato anche il progetto in tutta in regione per collegare Spigno Nuovo a Capodacqua la sorgente perché torna sempre di moda la sorgente invece per quanto riguarda la tua affermazione sul centro su piazza San Giovanni a Spigno Superiore del palco che è una piazza bellissima io sono riuscito a comprare su ebay una cartolina di quella piazza del 47 è stupenda la conservo in modo molto geloso e abbiamo approvato un progetto legato ai PSR della vecchia misura per il rifacimento di tutta la piazza di via Roma che sarebbe dovuta tornare nelle nostre idee ad essere via dei Tigli perché via Roma è diventata sotto il ventennio e di sviluppo della della località Portella che è quella dove sta il castello e non nascondo che nell'ultimo periodo avevamo riavviato il dialogo con i proprietari del castello per vedere di trovare una collaborazione per l'acquisizione e questo è un rammarico quello di non aver restituito al paese la sua storia la sua storia in modo diciamo quasi glorioso come volevamo farlo ok allora io ringrazio la regia che ci fa l'appunto che abbiamo superato l'ora dobbiamo contenerci Manuela hai altre domande? tantissimi complimenti sono tutti vicini a lei con cervello però domande no non hai domande? no per il momento non ci sono domande ci sono moltissimi complimenti ma domande no allora Salvatore io ti ringrazio per essere stato con noi abbiamo fatto una bella chiacchierata tra amici questa sera abbiamo un po' parlato non ci siamo visti tanto durante la tua amministrazione però abbiamo recuperato un po' stasera facendo un po' il punto c'è una domanda che non ti ho fatto magari che ti aspettavi o no diciamo che siccome è un periodo ma anche per mia diciamo quasi deformazione sono quasi pronto a rispondere sempre alle domande che mi vengono che mi vengono post la mia compagna prima di venire qua mi ha detto ti senti un po' agitato ho detto sto agitato come sempre come quando la mattina prima di arrivare in comune dalla macchina al comune mi fermavano 30 tra vecchiette ragazzini e quant'altro per parlare e chiedermi mi sarei aspettato la domanda su quello che mi porto dietro di questa esperienza amministrativa allora infatti qual è l'errore soprattutto non quando si ricandiderà qual è l'errore cerca di non ripetere questo l'ha detto in parte però l'errore è quello là forse di di non trovare di non cedere agli accordi della politica ci tengo però a dire tre cose che mi porto dietro dall'esperienza da sindaco la prima è quella di ho passato quattro anni stupendi perché quando incontravo i ragazzini delle scuole mi strillavano che mi salutavano e mi strillavano dicendo salvato per me è stata la cosa più bella ti fa sentire di famiglia la cosa più bella la seconda è un quadro che mi hanno dato i bambini dell'anno scorso del terzo anno dell'asilo che conservo adesso a casa in modo geloso l'altra è che come dicevo all'indomani della caduta tra le tante attestati di vicinanza solidarietà venuti da Spigno venuti da elettori e non elettori venuti da forze politiche esterne dai personaggi delle istituzioni e quant'altro è quella là che hai cercato di sdoganare Spigno Saturnia e di renderla comunità questa è la cosa che mi piace di più in assoluto speriamo di riprendere questo diciamo questo impegno l'anno prossimo a maggio ti faccio un'ultima domanda populista immigrati e cultura cosa hai fatto? io ho visto un bellissimo video in cui c'eri tu che suonavi con dei ragazzi che erano ospiti di Spigno e quella secondo me è stata una cosa bellissima le paure vanno affrontate va fatta politica intorno alla paura la dimensione sociale che ha la paura non può essere cavalcata per il consenso elettorale noi abbiamo diciamo avuto sempre diciamo pressioni da parte della prefettura per ospitare richiedenti asilo non avevamo mai avuto diciamo strutture e quant'altro finché a marzo dello scorso anno a marzo di quest'anno un'associazione ha affittato un'abitazione una villa a Spigno e ha ha inserito 13-14 richiedenti l'ha fatto in un modo secondo me errato perché non ha informato l'amministrazione e quindi là mi sono un po' diciamo arrabbiato perché avevo detto sempre che vanno fatti dei passaggi di integrazione anche con queste esperienze perché poi quando senti e ascolti le esperienze di queste persone qualcosa cambia nella mente devo dire che la cittadinanza ha risposto per la grande maggioranza con so bravi vaglioni se può fare mi piace questo termine dobbiamo chiudere ma ci sono altre due domande dai social quindi io per mio dovere lascio spazio a Emanuela allora ci chiedono se la videosorveglianza verrà installata a breve non posso dare tempistiche io l'unica cosa che so è che nella chiacchierata che oggi ho avuto con il commissario prefettizio con la dottoressa Perna mi ha confermato che il progetto è andato a buon fine e quindi credo che sarà diciamo installata nel più breve tempo possibile non è purtroppo una cosa che adesso gestirò io mentre il momento più bello è quello più brutto ovviamente fuori dalla caduta e questo l'ha fatto Daniele Sparagna allora il momento più bello è stato ce ne sono stati tantissimi non posso nemmeno fare una classifica il momento più bello che mi porto adesso è perché è legato a uno stato d'animo molto pesante che è il giorno di San Giovanni quando il parroco ne ringraziare l'istituzione sindaco l'applauso della chiesa è stato così caloroso che ho detto vabbè domani posso anche cadere tanto sono diciamo sorretto da questo affetto che non confonderò mai con consenso politico elettorale è un'altra cosa tra le tante affermazioni che mi sono arrivate tra i messaggi era perché sei un bravo vaglione era questa qua la cosa più bella che mi porto avanti sempre è un riconoscimento anche alla mia famiglia le cose più brutte non c'è stata una cosa più brutta in questa esperienza ci sono state molte difficoltà molte difficoltà a volte economiche di rapporti e quant'altro però da queste difficoltà ho tratto sempre insegnamenti anche da quella del lunedì 25 possiamo dire che quest'anno San Giovanni un sindaco ce l'ha portato e uno ce l'ha tolto perché la stessa battuta che ho fatto a Paola Villa è stata eletta proprio il 25 ti ringrazio Salvatore siamo arrivati a conclusione grazie a voi mi auguro di rivederci a breve con l'ex assessore Rodolfo Sommacui per farci una chiacchierata come ai bei tempi noi siamo qui la nostra regia curata da Biagio Capuano ci ha sorretto e ci sorregge sempre grazie Emanuela Conte per l'angolo social e per tutti coloro che ci hanno seguito tantissimi grazie a tutti voi grazie pubblico per averci seguito allora appuntamento ipotetico a un altro incontro e se no ci vediamo in giro perché secondo me Salvatore Vento sarà ancora di più in giro visto che non ha più un ufficio dove chiudersi e ha tutto da dare a spigno grazie Salvatore e a voi arrivederci alla prossima puntata dell'intervista grazie a tutti